Dopo la sospensione dovuta all'ondata di maltempo e neve si è tornato a riunire il Consiglio Comunale di Pescara. All'ordine del giorno diversi punti legati alla viabilità, tra cui il progetto che prevede il taglio di diversi posti auto lungo la riviera. Il piano viene contestato dall'opposizione. Marcello Antonelli, capogruppo di Forza Italia, presenta l'ordine del giorno per cercare di fermare l'intendimento dell'amministrazione comunale. La nostra richiesta, e quindi sollecitiamo il Consiglio Comunale a prendere una posizione, è quella di apportare una piccola modifica al progetto, sostanzialmente utilizzando a parcheggio l'area che oggi è strada davanti al teatro d'annunzio, in maniera tale non si perderebbero i posti auto, non si perderebbero i posti per le moto, garantiremmo, cioè, un'attività seria e serena da parte degli stabilimenti balneari, garantiremmo anche la possibilità di parcheggiare a coloro i quali vogliono fruire durante l'estate del teatro d'annunzio. Non mettiamo in discussione l'idea di riqualificazione della riviera Sud, che anzi è giusto portare avanti, ma questo non può determinare una penalizzazione fortissima per un settore così importante che quella delle attività balneari. Nel frattempo la Giunta Alessandrini ha chiuso con una transazione con Sapro e Ati Astaldi, il contenzioso sui lavori di realizzazione del Palazzo di Giustizia di Pescara. Per le casse del Comune, dice il primo cittadino, ci sarà un risparmio di 2,6 milioni di euro. Noi chiudiamo un contenzioso che dura da 15 anni e ridiamo dignità ad una struttura, il Tribunale di Pescara, che è resa invalidata da oltre un decennio. Chi ha familiarità con quei luoghi sa che ci sono delle transenne, delle transenne blu, perché c'è un problema rispetto alle lastre, che rischiano di cadere per un fenomeno di incurvatura tecnicamente noto come bending. Oggi definiamo questa vicenda transattivamente come un accordo complessivo che fa risparmiare rispetto a 15 anni di cause 2,6 milioni al Comune di Pescara. Contestualmente noi avremo la sostituzione di 24 mila metri quadri di lastre, che dal marmo saranno ingress di identica finitura estetica, ma senza il problema del distacco. E contestualmente avremo anche il collaudo dell'opera, perché, lo ricordo bene, il Tribunale di Pescara non ha collaudo. I lavori di sostituzione delle lastre dureranno 17 mesi, sono state già autorizzate dal Proveditorato alle opere pubbliche e quindi abbiamo ragioni di grande soddisfazione oggi.